Fiacetta, una delle voci femminili più belle degli ultimi anni, si Con noi, Rodicino e Cemento in Combination, Rasta Lady Buonasera a tutti Fiacetta, ci siete o no? Ci siete o no? Ci siete o no? Si parla di un alto senso di occhietà, riesce a capirlo, riesce a sentire su di occhi che non vedono una dose di realtà, gli occhi che non ballano perché non c'è sia una banalità, hai capito il gamigata si comincia da qua, banalità, si è diffusato l'ufficio del petro della società, mi parla di cose che non riesco a finire, raccontano una storia che so come va a finire, parlano di rispetto un po' e taglio il sentito, quello che cosa si travesse da dove si vede, Riflettere e parlare, un po' per iniziare, e vivere l'imparazzo di una fase di tanalesi, riflettere e parlare, un po' per iniziare, a volte faccio invece meglio di mille parole, banalità Ossia! Radici del cemento e curale! Oh, no, 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 no... Forse non ricarate ed entrare dal risulto ma di quella macchera che ti crede più contento che incontento in un modo di finzione va a finire, va a parlare, e c'è bell'insoddisfazione vogliono che ci paghi l'etichetta che fa bene solo seловMS rigirsi con l'aria un infern repro ma attento a non cadere, attento a non sbagliare ripetimento ma non paghi mai le pene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti